e salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo tutorial oggi facciamo due cose sarà un video un po più lungo inserirò quindi delle luci aggiuntive su un trattore che non ha luci da lavoro in pratica quindi ha solo esclusivamente le luci davanti ho preso il john deere 710 quindi quello delle di giants che hanno pubblicato con il farm con quindi che ha solo esclusivamente i fari gli anabaglianti in pratica i fari anteriori in pratica e ci inserirò dei fari al lavoro anteriori e posteriori compresi i suoi punti luce quindi devo fare anche i punti luci nuove in modo da avere praticamente i fari al lavoro realmente funzionanti a differenza di nel tutorial che avevo fatto precedentemente che era semplicemente un'aggiunta a dei fari che c'erano già con dei fari a led diciamo che in questo tutorial sarà un pochettino più complesso e completo nel senso che dovrò aggiungere dei fari che non hanno la funzione come quelli precedentemente aggiunti nella scorso nel scorso video dove avevano già praticamente il senso di accensione nel senso che su farming ci sono praticamente tre o quattro sensi di accensione cioè praticamente schiacciando il pulsante f o il pulsante che avete settato tipo io ho un altro pulsante utilizzo pad down per accendere i fari quando voi schiacciate quel pulsante lì in automatico più volte lo schiacciate più fari si accendono in buona sostanza quando se lo schiaccia una volta sia la posizione zero quindi praticamente i fari anabaglianti dopo sia la seconda posizione che è i fari posteriori da lavoro e la terra della terza terza sì che è praticamente sono praticamente i fari lavoro anteriori la quarta se vogliamo sono ad esempio le trebbie che hanno la luce della del tubo di scarico in pratica della coclea comunque prima cosa che vi devo spiegare vabbè ho già aggiunto i fari come avevo fatto precedentemente nel scorso video quindi ho saltato quella parte lì anche per un pochettino velocizzare il video quindi questo è il mezzo io ho aggiunto questi fari qui che sarebbero i fari gli anabaglianti del 4755 tanto per in teoria devono essere quelli sono già verdi sono già John Deere sono già di quegli anni lì insomma però non hanno i punti luce non hanno e non sono nemmeno settati per essere accesi in modo diciamo come vi ho spiegato prima con le vari con i vari praticamente punti di posizione dell'accensione dei fari quindi per accendere i fari nella posizione giusta ad esempio quindi fari da lavoro anteriori posteriori o i normali anabaglianti bisogna aggiungere il light type quindi in questo momento è settato solo ed esclusivamente un light type 0 che sarebbe quello che quando accendi i fari accendi l'anabaglianti e basta giustamente il trattore non aveva fari da lavoro noi adesso andremo ad aggiungerli light type 0 dopo c'è light type 3 che è questo qui che sarebbe praticamente il faro abbagliante quindi contro f in teoria accendete gli abbaglianti a noi non interessa questo perché questo qui diciamo che è un comando non so come spiegarlo nascosto quindi serve il control per accenderlo a noi ci serve che in light type siano 1 e 2 1 sono i fari posteriori da lavoro e 2 sono i fari anteriori da lavoro quindi andremo a copiarci sto light state state qui quindi contro il c contro lì due volte in modo che ne escono 3 e quindi faremo 0 1 e 0 1 2 e salviamo voilà che così siamo sicuri in pratica noi qui abbiamo detto che con il primo tasto noi andremo ad accendere i fari anabaglianti con il secondo schiacciando la seconda volta il tasto f non tasto dei fari andremo ad accendere o rimarranno accesi gli anabaglianti più i fari da lavoro posteriori e poi faremo la stessa cosa con il faro da si fare i fari a lavoro posteriori fare i lavoro anteriori e i fari anabaglianti problema la scorsa volta ho aggiunto e quindi andiamo su andiamo a trovare la cartella di fari intanto la scorsa volta avevo aggiunto il i fari a led della hella se non ricordo male gli hella hanno questa particolarità che hanno già il senso di accensione cioè il verso il la posizione di accensione già settata in xml quindi quindi qui non servirebbe fare nulla in buona sostanza però quindi praticamente ne avremmo che il light type questo qui è la versione back quindi posteriore sarà già un light type dei fari posteriori qui noi avrei abbiamo un altro problemino diciamo diciamo così che abbiamo dei fari che non sono settati per avere la direzione anteriore o posteriore allora andiamo a a vedere intanto l'xml del faro quindi work light 22 22 qua ehi non esplodermi ok road node default light eh no noi abbiamo qua abbiamo un default light che sarebbe light type 2 quindi questi qua se noi li lasciamo così senza scriverci nulla o aggiungere qualcosa qui si accenderanno come fari anteriori quindi di lavoro anteriori quindi una volta che schiaccieremo il numero numpad 5 in teoria dovrebbe essere di default andremo ad accendere sia i fari posteriori che i fari anteriori e quindi noi dovremmo andare adesso trovare questi qui che vado a ricordi e l'ho fatto prima velocemente questi qua sono i due posteriori quindi quindi qui work light si 11 e il 10 questi qua sono posteriori e allora noi andremo ad aggiungere dato che questo qui è di default con il numero 2 quindi che è anteriore noi andremo a copiare e incollare questo qui e mettere insetteremo il numero 1 così questi due fari qui si accenderanno quando che noi andremo ad accendere le luci posteriori del lavoro ora passaggio un pochettino diverso real light questi qui sarebbero i fari il punto luce quindi questi sono i fari che noi accendiamo e vediamo che si accende praticamente il vetro il vetro del faro e si accende il vetro del faro appunto così noi adesso avremo un trattore che accenderà il vetro del faro ma non avremo il punto che illumina quindi il punto luce noi andiamo a copiarci intanto questo qui questi light qua non break light neanche turn light perché questi qua sono le frecce e questo qui è il freno se lo andiamo a fare allora ctrl c e copiamolo due volte perché noi dovremmo andare a mettere sia i fari anteriori da lavoro che quelli posteriori da lavoro i node li cambieremo dopo e ora dobbiamo andare a prenderci i punti luce XML allora io vi ho già spiegato come funziona io già creo una telecamera in più light dovrebbe essere di default attivato io solitamente lo disattivo perché altrimenti è tutto sto macello qui non si capisce nulla quando fate i lavori in ogni caso con quindi tasto destro show light e vedete i punti luce benissimo andiamo a copiare i punti luce che esistono già perché tanto abbiamo già delle luci anteriori da anteriori che funzionano quindi basta fare ctrl c ho sbagliato ho fatto ctrl c e ctrl v mantenendo selezionato questo qui automaticamente te lo copia sotto il transform oppure se volete essere sicuri seleziono del transform e quanti fate ctrl v a me ne serve 1 2 quindi va bene così allora qua cambiamo il nome giusto per capirci un attimo work light front meglio back prima e dopo facciamo il front allora ho scritto front non ho ben capito cosa ho scritto front allora andiamo a spostarli questo qua penso che per spostare non è che non mi serve spiegare come dovete fare penso proprio di no allora per comodità dato che giustamente stiamo modificando delle cose già fatte io andrei a mettere intanto rotazione 0 0 0 in modo da partire con una rotazione diciamo di default tra virgolette e la giriamo giusta lo incliniamo magari di qualche grado 75 mettiamo dai 75 qua noi siamo più o meno tanto non vi preoccupate qui parte il punto luce ovvio che se lo mettete più indietro vi si illumina di più ma noi lo mettiamo qua dai più o meno facciamo la stessa identica cosa con questo qui adesso questo faro qua che è dipendente da questo questo punto luce qui è dipendente da questo qui quindi quando io sposto questo automaticamente anche lui si sposterà perché è una sotto cartella praticamente è una sotto è un sotto insieme quindi questo qui per fare le cose simmetriche facciamo una cosa molto bella facciamo 0 0 anzi mettiamo tutto a 0 tutto 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 proprio tutto quanto così lo spostiamo dov'è e dopo noi facciamo una cosa molto bella e la spostiamo a mano finché arriviamo nel punto che vogliamo noi bene e questo è il primo ora facciamo giustamente io l'ho scritto back e ho fatto front perché vabbè abbiamo fatto lavoro lo stesso dai control swift c e andiamo a copiarci i riferimenti qui poi andiamo a copiarci i riferimenti anche di questi sempre stessi tasti quindi control swift c control swift v e facciamo la stessa cosa anche con lui qui ma qua basta fare così non serve fare altro questo ovviamente portiamo tutto a 0 e qui facciamo lì perfetto adesso noi abbiamo già fatto mezzo lavoro giriamo tutto quanto mettiamo rotazione 0 rotazione 0 rotazione 5 perché era 75 c'è un bel spostamento di questi anzi devo spostarlo anche di qua perfetto questo qua è tutto quanto vabbè è abbastanza è una rottura di scatole perché è più che altro la rottura di posizionare il tutto che non è che si non è una cosa abbastanza normale ecco quindi lo mettiamo più o meno qua tanto non è che bene perfetto facciamo due modifiche i fari mettiamo range mettiamolo un po' più basso perché di solito si mette 30 o 25 quindi facciamo così che questo qui sarebbe quanto lungo quanto lontano va il faro il cono di angolo quindi praticamente la sua ampiazza della luce io metterei buono so se questo qua è meglio mettere 80 no aspetta 80 forse un po' troppo beh 80 si 80 80 80 80 lo vediamo 80 80 e 80 io andrei a modificargli un pochettino anche il colore vado un po' a caso nel senso che l'rgb penso che tutti quanti sappiano come funzionano dei led quindi praticamente se vogliamo farlo un pochettino più giallognolo aumenterei un pochettino il giallo nel senso potrei portarlo a uno e diminuire un pochettino il blu qua facciamo la stessa cosa quindi ctrl c ctrl swift c ctrl swift v e lo facciamo su tutti quanti in modo che escano tutti quanti uguali aspetta che sbaglio altrimenti bene perfetto ops ho sbagliato tasto bene salvato abbiamo salvato ora bisogna inserire i punti luce questi due qui allora light type mettiamo uno ne mettiamo due stessa cosa di prima noi dobbiamo ovviamente far funzionare questi che sono quelli posteriori e questi sono quelli anteriori questi per semplicità io farei così non andrei a fare il litre di mapping copierei direttamente i nod qui quindi ctrl c e ctrl v semplicemente tutti e due solo esclusivamente del capogruppo diciamo del faro che contiene l'altro faro perché dopo automaticamente una volta che questo si accende si accenderà anche questo che poi tra l'altro non ho nemmeno rinominato perché va bene ops bene adesso noi possiamo andare ad eliminare questi fari qui perché funzionano quindi li abbiamo già sistemati qui abbiamo i riferimenti bene nell'i3d io penso di aver finito di fare quindi posso chiudere seconda cosa che volevo fare oggi che così dopo andiamo in gioco andiamo in gioco una volta sola mi hanno chiesto di aggiungere delle ruote aggiuntive si delle ruote doppie scusa le doppie ruote posteriori per semplicità io faccio una cosa così copio i default quindi bkt default quindi farei così ctrl c per semplicità è semplicemente perché così abbiamo tutti quanti i riferimenti delle ruote non ci rompiamo le scatole con il bkt default e quindi riprende poi i riferimenti di questo toglierei la outer rim e inner rim diversi Questi qua sono delle modifiche che si fanno sull'XML del trattore per evitare di modificare l'XML della ruota e quindi avere dei file aggiuntivi all'interno della cartella come non penso di avervi fatto vedere ma vorrei farvelo vedere con le gomme o dei cerchi come prefab prossimamente. Adesso non so quando riuscirò a pubblicare sia a fare il video eccetera eccetera. Altra cosa, ora bisogna inserire in pratica bisogna dire all'XML di inserire un cerchio esterno, una ruota aggiuntiva. Noi qua dovremmo quindi scrivere, e adesso io vado a memoria ma andrò a cercarmi, farò il furbo, andrò a cercarmi su un XML di un trattore che già monta delle ruote aggiuntive. Tutta quanta la stringa già fatta perché è più semplice, più rapido perché non ti puoi ricordare, dovresti scrivere will, andi will e in teoria mettere il file name della ruota. Però io faccio un pochettino più il furbo. Allora, prima andiamo a vedere se la ruota nella BKT qui ha la possibilità di avere TR-135. Sì, TR-135, 12, 4, 12, 4, 36. Dual, ok, questa qua ha già la configurazione di dual in rim, va bene. Quindi, ha già la configurazione, quindi non serve, cioè nel senso è una gomma che è compatibile con la possibilità di metterci i due cerchi, cioè le due gomme insomma, le gomme doppie. Noi però adesso andiamo a fare così, data, vehicle, il primo trattore qua mi sembra Agico, no. Non c'è Agico, beh, case, sì, sicuramente un case, c'è il pa pa pa, lo stager, siamo sicuri, che lo ha, che sono come doppie, ecco le qua, additional wheel e connector. Allora, vediamo di farlo dopo ovviamente, io adesso farò additional wheel qui, molto semplicemente. Quindi, quindi CTRL-C e veniamo a metterlo qui sotto. Però, dobbiamo andare a controllare un attimo perché il connettore sarà un po' troppo grande, però io lo lascerei anche lì dopo. Ovviamente potete sempre cambiarlo tramite i node, andare in cerca di altri, ce ne sono tanti altri nel senso che è data. Shared, wheels, rims, no, hoops. Giusto? Sì. Sì, di hoops, com'è che si chiama? Dual, cioè dual 1, dual 2, dual 3. Io lascerei dual 5 e vediamo cosa succede se esplode tutto. Allora, start posizione, lasciamolo così, che facciamo prima, eccoli qua, config ID, ovviamente io devo cambiare le gomme e scrivere cos'è che c'è scritto qua, dual. Quindi andiamo a scrivere dual, che c'è già scritto, grazie a Dio. E andiamo a mettere questa gomma qui. Additional file name. Così vengono fuori le due gomme uguali. Dopo ovviamente se voi volete le gomme diverse potete mettere una gomma diversa, cioè nel senso come cambiare le gomme, la stessa cosa cambierete anche questo. Ovvio controllate sempre che ci sia config ID, dual, perché altrimenti dovete fare dei lavori in più, cioè nel senso farvi la vostra, voi la configurazione. Però, come ho sempre detto, aspetto di fare dei video un pochettino più complicati e più completi per farvi vedere come fare. Assolutamente facciamo la stessa cosa. Andiamo a mettere la scritta default 2, che così non abbiamo problemi poi in game. Abbiamo messo questo, questo, questo forse, vediamo a mettere dual 1. Chissà che non esploda nulla, spero veramente che non esplodi nulla. Questo qui appunto, stavo guardando il node 1, probabilmente per via del, come si chiama, per via che una è una gomma di destra e una è una gomma di sinistra. No, questa qui dovrebbe essere quella di, ok ho sbagliato, ho messo il contrario, questa qui è quella left false, no è giusto. Ok. Questa qui dopo ovviamente, io sto facendo un po', sperando che vada tutto quanto bene, senza dover aprire un sacco di file i3d e controllare. Voi ovviamente se, sì, fatevi il controllino, che prendete i node giusti e che prendete anche e soprattutto il file con il cerchio e gli attacchi giusti della ruota ovviamente. In ogni caso facciamo una cosa veloce, andiamo in game e vediamo. Allora, sì, beh, ovviamente io, aspetta un attimo che, aspetta, aspetta un secondo. Va bene, allora, non so quanto alto sia il volume del gioco, spero non tanto, anzi al massimo lo abbassiamo, tanto non vi interessa assolutamente nulla sentire il volume del mio c***o qui. Ops, non si può dire. Va bene, devo tagliare questa parte. Va bene. Va bene. Va bene. Eh, sì, ricominciamo. Allora, sì, i fari ci sono tutti, è già una bella cosa. Facciamo così, proviamo a vedere queste ruote, così dobbiamo uscire. Allora, standard. Forse no, forse è meglio lasciare 5. Aspetta un attimo, aspettate un secondo che... Fare le cavolate, sempre bello. Anzi, vediamo anche di mettere un offset minore. Vediamo che se è un 0,5 va bene. Questo qui sarebbe lo spostamento, in pratica, lateralmente della ruota, della gomma. Ops, vediamo che cavolo succede. Non è proprio, non è proprio, perché abbiamo un connettore diverso, nel senso che non è quelli, non sono quelli di base. Io non avevo voglia di andare a vedermi tutti quanti i connettori, porca trotta. Invece mi tocca? Non bello. In ogni caso. Oddio, cos'è sta roba? No, aspettate un attimo, perché è meglio che faccio le cose fatte bene. Per star prima, che altrimenti qua viene fuori un video enorme, prima che io vado a trovarmi fuori le cose. Solitamente io non... Una cosa che non mi piace è mettere le gomme doppie, però facciamo prima. Dimmi che c'è il maximum qua, bene, perfetto. Dovevo avere le gomme doppie. Trelleborg. Weight. Default. Twin. Ok. Dual rim. Eccolo qua. Connector. Questo qui. È che ho copiato quello del coso, ho copiato quello del... Facciamo così. Vediamo se tutto va bene. Ho copiato quello dello staker io, che effettivamente, probabilmente, sono quelli dedicati, fatti apposta per quel trattore. Appunto. Ok, perfetto, funziona. È colpa mia. È colpa mia nel senso, non avevo voglia di controllarmi tutto. Comunque, configuriamolo. Abbiamo le gomme doppie, in pratica. Ecco, forse c'è da... Forse c'è da... Ah no, sono collegate. È un cerchio strano, ma comunque vabbè. Posizione 1, funziona. Posizione 2, funziona. E anche il 5. Funziona tutto. Ah, beh, perfetto. Beh, ragazzi, io penso di avervi spiegato abbastanza cose questa volta, anche perché siamo andati, penso, oltre i 20 minuti abbondanti. E niente, penso che, cioè, la parte basica del modding, per me, può essere anche conclusa così. Prossimamente vedrò un attimo cosa aggiungere, magari un pochettino più complicato, un po' più dettagliato, magari qualche configurazione motore, qualche configurazione da... Ad esempio, eh. Ad esempio, quando si possono mettere... Tutta roba di default, faccio ben poco a farvi vedere. Beh, ma in teoria sì, questi qua possono avere la possibilità, appunto, dei cerchi, tipo dei parafanghi diversi. Proviamo a vedere un attimo come fare, anche come togliere i parafanghi su alcuni mezzi. Perché non tutti quanti... Cioè, non su tutti c'è la possibilità di togliere i parafanghi, ovviamente. Perché, purtroppo, farming ultimamente è... Lo hanno fatto tutto quanto tramite Blender, le animazioni, e quindi comunque sono tutti quanti schinnati. E quindi... Hanno le animazioni fatte in Blender, o comunque fatte con il... Quando hanno modellato il mezzo, l'hanno fatto. Quindi se voi andate a togliere, ad esempio, un parafango... O non potete farlo, oppure non funziona più mezzo trattore. Dette proprio in parole molto molto schiette, molto povere, molto basiche, molto molto tutto. In ogni caso, spero di... Di servire. Nel senso che... Di tutorial così non ce ne sono tanti. Soprattutto in italiano. E soprattutto non sono corti. Sono molto lunghi. E vi perdete, secondo il mio punto di vista. Sì, faccio qualche errore, ma... È giusto che faccia qualche errore. Perché molti di voi fanno qualche errore. Anzi, tutti quanti facciamo degli errori. È giusto che facciamo degli errori, perché... Non siamo... Non siamo programmatori professionisti. Bella sta la griglia. È fatta... E quindi, praticamente, mi pare giusto farvi vedere anche gli errori che faccio. Anche perché devo risolvergli gli errori. Quindi potrebbe essere un aiuto anche a voi. Se magari fate un errore, capire più o meno dove andare a trovare la soluzione. E intanto vi saluto. Ci vediamo in prossimi video. E... Ciao, ciao! E... Grazie a tutti